Progetti a sostegno dei più fragili, momenti di incontro, mutuo aiuto, confronto, socializzazione per riempire il vuoto lasciato dall'emergenza pandemica, in particolare nelle persone affette da disabilità. Questi gli obiettivi del progetto Teatro Virale, emozioni contagiose, le persone con disabilità oltre lockdown, finanziato a seguito di aggiudicazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale. Sono quattro le associazioni della rete Anfas a partecipare, tra cui l'Anfas di Sulmona. Intraprenderanno un percorso al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso gruppi di auto, mutuo aiuto, momenti formativi focus di gruppi specifici, al fine di rilaborare le sensazioni e i sentimenti vissuti dalle persone con disabilità e dei loro caregiver durante il non facile periodo del lockdown. Il tutto verrà poi trasporto in una rappresentazione teatrale. La scrittura delle sceneggiature con la collaborazione attiva delle persone con disabilità e dei volontari sarà momento pregnante di partecipazione attiva. Se lo spettacolo è il prodotto finale, il laboratorio teatrale, gruppi di auto, mutuo aiuto risultano essere strumento altrettanto funzionale e efficace per agire sul benessere dei partecipanti.